Lo sportello del cittadino si sta occupando dello stalking, questo fenomeno sociale. Con l'avvocato Gina Lupo, esperta del settore, nonché consigliere di parità della provincia di Taranto, abbiamo analizzato le varie figure, il soggetto attivo, il soggetto passivo, le modalità attraverso le quali si estrinseca questa condotta, ricordiamola, criminosa, perché è un reato penale. Ora passiamo ad un'analisi importante. Come dovrebbe comportarsi, come dovrebbe reagire il soggetto vittima di stalking? Allora intanto è inutile parlare. Diciamo alle ragazze che ci seguono, perché tante sono le mail che mi arrivano, che questo ultimo colloquio, ultimo chiarimento, sali in macchina con me che dobbiamo parlare, è una cosa da evitare nella maniera più assoluta. Quando si tronca una storia, occorre troncarla nella maniera più netta possibile. Lo dico a tutte le ragazze che ci stanno seguendo in questo momento, andando anche un pochino oltre quello che è l'argomento di cui noi stiamo parlando. Mai accettare l'ultimo appuntamento, mai cercare l'ultimo contatto chiarificatore perché è sbagliato. Inoltre, giusto per avvertire, lo stalker ha un comportamento ascendente, cioè il persecutore pone in essere una serie di atteggiamenti sempre più aggressivi, più ravvicinati, più insistenti, per cui non tornano indietro. Si tratta di una vera e propria patologia che ha un escalation, per cui come siete vittime di questi episodi, correte ai ripari. Come possiamo correre ai ripari? La legge è molto chiara. Parliamo di un reato, si parla di atti persecutori che passano anche da un divieto di avvicinamento che il giudice può emettere allo stalker, di avvicinarsi ai luoghi di lavoro della vittima, di avvicinarsi alla vittima in quel momento. Quindi parliamo prima di ammonimento, di una diffida, di un allontanamento e poi anche di un arresto se i comportamenti sforciano in violenze. Suggeriamo, Luigi, a chi ci segue di conservare tutte le prove. Conservate i messaggi, non cancellateli. Conservate le prove delle telefonate magari mute, anche se sono solo squilli. Conservate le visualizzazioni sulla vostra pagina di Facebook. Non indicate su internet e sui social dove andate. Cercate di avvertire anche le persone che vi stanno vicino, gli amici, i compagni, di guardarvi intorno. Non uscite mai di casa da sole e denunciate. Denunciate immediatamente perché non pensate di poter risolvere un problema di stalker con il ragionamento cercando di convincere l'autore che è in preda a questa ossessione di cambiare il suo comportamento.